Il Regno Unito è in festa per il novantesimo compleanno della regina Elisabetta II, che batte anche un record, diventando la monarca che ha regnato più a lungo al mondo. Sua maestà si mostra ancora una volta pronta a festeggiare, sfoggiando una forma invidiabile, come racconta Ingrid Seward, giornalista del periodico dedicato ai reali britannici Majesty Magazine. La sua salute è buona, fa esercizio, cammina molto. Non c'è ragione per interrompere, credo che anche lei ne sarebbe spaventata. Il volto di Elisabetta II è ormai un'icona per i britannici. La sua popolarità è in continua crescita grazie alla capacità di unire, invece di dividere, un paese già alle prese prima con il referendum sull'indipendenza della Scozia e poi con l'imminente voto sul possibile Brexit.